Al comunale Leonardo Petruzzi di Città Sant'Angelo, un'isernia molto rimaneggiata e ospite della Renato Curi Angolana per l'andata degli ottavi di finale nella fase nazionale della Coppa Italia, a dirigere le ostilità il signore dell'olio della sezione di Molfetta. La cronaca del match si apre al quinto, quando Panico, da fuori area, richiama l'attenzione di Angelozzi, che non si fa trovare impreparato. Alla mezz'ora ci prova De Luca, ma un attento Scalia si distende alla propria sinistra e mette in angolo, sugli sviluppi del medesimo, il tentativo aereo è sempre di De Luca con la sfera che si spegne sul fondo. Ma nell'ultimo minuto di recupero della prima frazione di gioco, l'Angolana sblocca il risultato con la rete di Emanuele De Luca e così le due squadre guadagnano gli spogliatoi. Con le immagini montate da Danilo Scarinci passiamo alla ripresa, dove mister De Bellis lancia Damizzi al posto di Santilli, ma è sempre più un epilogo casalingo. La conclusione di capitane Di Camillo sorvola la traversa davvero di pochissimo. Al diciassettesimo il gol del raddoppio. La difesa bianco celeste si fa trovare impreparata, ne approfitta Miani che serve un pallone a De Luca, il quale taglia perfettamente sul secondo palo e realizza il 2-0 e sua personale doppietta. Lisernia scuote la testa ed accenna una reazione. Su un corner dalla destra, Fontana con il piatto destro manda di poco alto. Allo scadere è la volta del classe 94 Farindolini, Mascalia risponde presente. L'ultimo brivido ce lo offre Panico con questo calcio di punizione che non inquadra lo specchio della porta. Cala così il sipario sull'incontro. Vittoria più che meritata per l'arenato Curi Angolana che ha messo in cassaforte una prima parte della qualificazione. Seconda sconfitta stagionale invece per Lisernia che conta sul recupero degli squalificati Tuccia e Mingione per tentare il colpaccio nella gara di ritorno mercoledì prossimo sul manto erboso dell'Ancelotta.